Sindaco di Pescara Luigi Alborremasci, è un momento particolare per la Pescara sportiva, lei che è uno sportivo oltre che essere sindaco, sembra di ritornare un po' indietro agli anni delle grandi trasferte degli esodi. Siamo abituati perché Pescara è una città straordinaria che risponde in maniera incredibile quando ci sono eventi, lo abbiamo visto lo scorso anno, io ho avuto il privilegio di essere già sindaco quando si sono svolti i giochi del Mediterraneo, decine di migliaia di persone hanno assistito a quegli eventi sportivi e poi c'è la squadra di calcio del Pescara che è l'amore di tutti quanti noi. Io credo che domenica ci sarà un grande esodo perché a portata di mano c'è il primato in questo campionato difficile e sofferto ma nel quale abbiamo sempre creduto, abbiamo creduto in questa squadra, c'è la possibilità concreta di gettare le basi in queste ultime giornate, d'altra parte si è sempre detto che i campionati si vincono in primavera, di gettare le basi per un ritorno in Serie B che Pescara merita. D'altronde è un momento importante anche perché sono tutti uniti, il tifo, l'amministrazione, la dirigenza, i giocatori, l'allenatore. Guardi, io sono rimasto molto colpito da ciò che è accaduto immediatamente dopo il gol di Sansovini domenica. Vedere tutti i compagni di squadra che si sono buttati addosso al nostro bomber in segno di amicizia, di affetto perché era in astinenza da gol da diversi mesi, la dice lunga sull'ambiente, sul clima che c'è. Chi si intende di calcio e segue il calcio da un po' di anni comprende subito che tutti quegli elementi positivi e virtuosi che devono esserci per ottenere un grande risultato sportivo come quello di una promozione ci sono. Una nuova società, un pubblico straordinario che non ha mai fatto mancare il proprio appoggio, una città che si stringe intorno alla squadra, giocatori di alto livello, un allenatore molto bravo che sta dimostrando grandi capacità. Beh, insomma, ci sono tutti gli ingredienti per questa cavalcata vincente nelle ultime settimane. Io mi auguro, raggiungendo il primato e quindi evitando i play-off, ma se anche dovessero esserci play-off, il dodicesimo uomo in campo è il pubblico pescaresi. Il sindaco di Pescara sarà al Bente Godi? Assolutamente sì, con partenza sabato anche per partecipare al Vinitaly dove vi sono eccellenze abruzzesi e pescaresi nel settore vinicolo e quindi non farò mancare la mia presenza e poi domenica al Bente Godi per dire tutti insieme Forza Pescara.